Andrea Braga per MSC TV. Signor Sindaco, che importanza ha essere riuscito a organizzare per il secondo anno un festival che affronta temi e argomenti così importanti? E' ancora più importante visto il momento che si sta vivendo, perché la crisi da un anno a questa parte è anche peggiorata, quindi c'è un problema anche di coesione sociale, c'è un problema economico, ma se la società non resta unita, coesa, solidale, se si perdono i valori di riferimento c'è un rischio di tensioni sociali, sarà molto più difficile uscirne e quindi questo festival per quelli che sono i valori e anche i dibattiti, perché sono dibattiti su temi molto concreti e molto sensibili. Può aiutare a dare un messaggio positivo in questo senso. Qual è il suo augurio per i giovani che sono qui al festival e che vogliono sperare in un futuro migliore? Che bisogna che siano comunque ottimisti, perché se un giovane non è ottimista vuol dire che è finita, e sapere che dovremo ognuno fare la propria parte, che ci sarà da fare uno sforzo comune, non indifferente perché sarà molto molto dura uscirne, però ecco ci vuole forza di volontà, appunto avere dei valori forti in cui credere e sapere che ce la faremo. Il popolo italiano non è sempre uscito, anche in momenti difficilissimi ce la faremo anche questa volta credendoci. Grazie al sindaco Riverone, un saluto da Andrea Braga per MSC TV. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.